Che cosa rappresenta per lei questa stella d'oro? Allora in termini un po' banali si direbbe è un premio alla carriera, certamente non è così. Io credo che il CONI con questo atto della Giunta e del Consiglio abbia voluto in qualche modo dare risalto a un servizio gratuito che ho avuto l'onore e anche così la possibilità di esercitare in questi ambiti sportivi di alto livello sia italiano sia anche internazionale evidentemente. Sono vent'anni dunque dello sport nazionale e internazionale quindi è stata un'esperienza straordinaria sotto i profili sportivo, atletico sportivo per la conoscenza degli atleti, del mondo dello sport al di là della ribalta televisiva o comunque atletica e nel contempo una possibilità di essere vicino con molto rispetto e con molto garbo assolutamente e discrezione a questi grandi nostri atleti che hanno dato gloria all'Italia sostanzialmente. Dunque conoscendoli dall'interno e al di fuori dal palcoscenico, usiamo così l'espressione, uno dei campi di gara c'è una conoscenza molto più profonda, molto più umana di queste grandi storie personali, individuali e collettive che riguarda la civiltà dello sport in Italia. Io voglio sottolineare questo aspetto perché è così, io ritengo che sia così. La mia presenza di cappellano, quindi di prete sostanzialmente, è cresciuta dentro l'esperienza perché io non sapevo nulla prima di entrarci, è stata un'esperienza direi sorprendente che mi ha dato la possibilità di andare oltre quello che è la conoscenza del tifoso o comunque del conoscitore, del cultore dello sport. E dunque a diversi strati potrei dire, è un'esperienza a diversi strati e tutti concorrono a darmi un'idea, diciamo così, della valenza sportiva ma anche morale e spirituale di questi atleti e anche del mondo attorno agli atleti, cioè gli allenatori, massaggiatori, psicologi e quant'altri corrono attorno agli atleti perché è un mondo, è un universo, diciamo così. E questo è importantissimo per me ma anche per loro perché essendo una presenza istituzionalmente riconosciuta dal CONI, quindi questo mi ha dato la possibilità effettiva di essere lì, non di essere un intruso o di essere uno che va a curiosare, diciamo così o che va per ricevere chissà quali vantaggi. Io ho sempre rifiutato qualsiasi tipo di vantaggio se non quelli che avevano tutti dentro questo mondo, quindi io potevo andare sia nei campi sportivi sia dove, vivendo dentro il villaggio, quindi questa mi va la possibilità delle straordinarie sia dalle cose più semplici di incontrare un atleta per strada, di parlare con lui oppure mangiare con lui, mangiare con loro, insomma, in questi grandi hangar delle mense, degli atleti e anche delle persone che accompagnano gli atleti.